Avere un rapporto con una prostituta per le strade della terraferma veneziana può costare molto caro, non in termini di prestazione, ma per le conseguenze nelle quali il cliente incapperebbe nel caso venisse pizzicato dalle forze dell'ordine. Lo sanno bene i 180 uomini che dall'inizio dell'anno sono stati pizzicati con una signorina a consumare un momento a luci rosse. A Venezia scattano i verbali, le sanzioni eppure i daspo urbani per chi si comporta male contro il decoro urbano. Solo nelle ultime ore nei controlli realizzati a Marghera sono stati fermati un peruviano sottoposto ad aspo e a 450 euro di sanzione totale, ma qualche giorno fa le multe per 350 euro ciascuno hanno raggiunto un rodigino, un turco e un somalo.